Il Vangelo come punto di riferimento per diversi itinerari di formazione in Diocesi. L'invito del Vescovo, scaturito dal lavoro sinodale, sarà il filo conduttore del nuovo anno pastorale che si aprirà con il convegno diocesano 2019. Quindi anche quest'anno si è fatta la scelta con il Consiglio Pastorale Diocesano di privilegiare il Vangelo dell'anno liturgico nuovo, quindi il Vangelo di Matteo, e fa riferimento ad esso per poter iniziare i diversi percorsi di tutta la Diocesi. Lo sguardo con cui approssimarsi alla lettura del Vangelo sarà contestualizzato nell'attualità del nostro tempo. Guardare al nostro tempo mettendosi in ascolto del Vangelo, in particolare del Vangelo di Matteo, e riuscire a scorgere quali sono gli elementi un po' caratteristici di questo tempo nel quale stiamo vivendo, anche per favorire sempre più una lettura del Vangelo che sia contestualizzata appunto con la vita nostra di tutti i giorni. Ad introdurre la riflessione sarà Rosanna Virgili, biblista, docente di Esegesi. La proposta è rivolta ad un'assemblea eterogenea non solo di addetti ai lavori. Il convegno diocesano è un appuntamento che riguarda tutti, non soltanto le persone più impegnate nei cammini pastorali della Diocesi, e delle singole parrocchie, dell'associazione di movimenti, credo che sia un invito che riguarda ogni credente, o forse anche ogni cercatore, un po' nel proprio cammino di fede, lasciandosi un po' ispirare appunto dalla parola di Dio. Il convegno diocesano è un momento di condivisione di una proposta che ciascuna comunità, in ciascun ambito, è chiamata a declinare nel contesto vissuto. Le singole realtà hanno saputo poi vivere questo invito in maniera originale, propria, diciamo, tenendo anche conto delle caratteristiche già dei percorsi esistenti, penso nei vicariati, negli ambiti, nelle parrocchie. La cosa bella è stata anche un po' l'originalità con cui ciascuno ha fatto proprio lo spunto iniziale del convegno.